Buongiorno, ben trovati. In apertura parliamo dei vaccini anti-covid. Ieri l'arrivo di nuove dosi, un nuovo stock della Pfizer che ha portato a 11.805 quelle consegnate alla Basilicata dall'inizio della campagna. Dosi che continuano a essere somministrate soprattutto a personale sanitario e ospiti e operatori delle RSA. Allora facciamo il punto con il servizio di David Marcedo. La percentuale di dosi iniettate in Basilicata rispetto al numero di quelle ricevute, stando all'aggiornamento che compariva sul sito del Ministero della Salute alle ore 13, è del 39,1%. In attesa di vedere a che velocità già da stamattina andrà la somministrazione delle nuove fiale, la Basilicata si ritrova così all'ultimo posto tra le regioni, seguita soltanto dalla provincia autonoma di Bolzano. Va precisato che alcune delle regioni, tra cui la Basilicata stessa, hanno scelto di accantonare parte delle fiale per avere certezza di poter garantire il secondo richiamo in caso di ritardi nelle forniture. I numeri dunque. 4.619 i vaccinati lucani, 2.687 donne, 1.932 uomini. 4.260 sono medici e infermieri, si tratta per inciso della metà della categoria in Basilicata. 197 sono stati invece per ora i vaccinati tra gli appartenenti al personale non sanitario di ospedali, ASP, ASM e di altre strutture, mentre per ora sono solo 162 i vaccinati ospiti nelle RSA, il 3,48% del totale. Percentuali un po' diverse da quelle nazionali, nel resto d'Italia il personale non sanitario e gli ospiti dell'RSA rappresentano infatti una quota maggiore. Per quanto riguarda l'età, sono i lucani tra i 50 e i 59 anni i più vaccinati, 1.340. Ancora indietro le fasce d'età più avanzate in attesa che prenda piede, come prevedibile, la vaccinazione nelle RSA. Hanno intanto varcato il confine del Brennero stanotte le dosi anti-covid della casa farmaceutica Moderna. Oggi il prefetto di Potenza, annunziato Vardè, affronterà in una riunione il tema della loro distribuzione nei prossimi giorni.